Buongiorno, sono Lino Accetta, titolare dell'autoscuola Accetta. Vi do il benvenuto in questa pagina web dove vi saranno spiegate, dove troverete tutte le spiegazioni su quelle che sono i nostri servizi. Io comunque e il mio staff avremo il piacere di ricevervi presso la nostra sede in via 4 novembre 69 a Ragusa per fare la vostra conoscenza e per darvi tutte le spiegazioni a quelle che sono le vostre domande. Ciao, a presto!